Laura Castelli, Vice Ministro dell'Economia nei nostri studi di Roma, ben trovata. Buon pomeriggio. Andrea Montanino, responsabile Centro Studi di Confindustria in collegamento, penso, da Viale dell'Astronomia. Esatto, buonasera. Perfetto, lo so. Con noi Sara Varetto, il nostro editorialista. Allora Sara, la prima cosa che vengo a chiederti è qual è il numero del giorno, anche perché immagino che ci aprirà già un primo giro di domande. Il numero del giorno l'abbiamo scelto partendo da quello che hai raccontato tu adesso, c'è un'Italia nuovamente in bilico e stiamo cercando le ragioni del perché siamo in bilico. Sicuramente il nostro numero del giorno, questo 28,8, che non sono nient'altro che i miliardi di clausole di salvaguardia del prossimo anno. Cioè perché noi tutti siamo molto concentrati su disinnescare quelle di quest'anno, giustamente. Però attenzione, la coperta non sarà più ampia il prossimo anno, anzi, semmai sarà anche più corta, perché le clausole di salvaguardia saranno più alte per scongiurare un nuovo aumento dell'IVA. Il ministro Gualtieri ha dichiarato pubblicamente che in realtà si sarebbe già trovata parte delle coperture per poter disinnescare anche queste, perché ricordiamo che un aumento dell'IVA sarebbe di nuovo un qualche cosa che frenerebbe i consumi che sono al palo nel nostro paese. Ricordiamoci che la nostra economia è in stagnazione, ma quella che la tiene per adesso lontana dalla recessione sono le esportazioni messe però adesso in un contesto di nuvolosità crescente a causa del conflitto fra Cina e USA e la guerra dei Dazi. Ma tornando alla nostra di manovra, 28,8 per il prossimo anno, come si potranno disinnescare? Speriamo, e su questo mi fermo, con un ricorso per la minor parte possibile al deficit. Perché come ha fatto vedere anche Giorgio Rizza nei giorni scorsi, purtroppo sempre di più queste clausole di salvaguardia vengono neutralizzate, facendo nient'altro che nuovo indebitamento per il futuro. E spostiamo solo avanti il problema, fra l'altro ingrossandolo perché diventa poi alla fine debito. Vice Ministro Castelli, prima di parlare delle previsioni e dei dubbi di Confindustria parliamo dell'IVA. È una domanda più politica però. La narrazione dei Renziani è che praticamente la volevate aumentare e invece sono arrivati loro e alla fine non l'aumenterete. Cosa c'è di giusto e cosa c'è di sbagliato? Scusi, intanto sul 28,8 perché non è che posso lasciare così non commentata una cosa che mi riguarda direttamente. Il 28,8 è vero, è il numero dell'anno prossimo, ma già in una parte quest'anno sarà coperta perché gli effetti positivi che ci saranno sulle cose che stiamo programmando per quest'anno, che sul 2020 avrà degli effetti già positivi e quindi un pezzo di quelle clausole che avete citato verranno coperte. E non è banale il fatto che troviate già adesso i soldi anche per il futuro. Ma ci dice anche come le avete già coperte quelle dell'anno prossimo? Eh, con gli effetti positivi delle cose, delle politiche che stiamo montando per la manovra. Così si fa quello che si può, anche l'anno scorso l'avevamo fatto, abbiamo cominciato a ridurre un pezzettino per quel che si riesce a fare sul tendenziale. E questo è un buon modo. L'altra cosa che va raccontata alle persone, ai cittadini, è che non si potrà più rimandare avanti di ulteriori anni perché le clausole di salvaguardia non esisteranno più, per cui non si potrà andare oltre quelle programmate negli anni. Per cui siamo di fronte a un cambio, io c'ero in opposizione in Parlamento quando si fece una legge che impediva l'utilizzo ulteriore oltre un certo anno di questo strumento. Quindi stiamo parlando di un lavoro definitivo. L'idea è di levarle, nel senso che non ne vedremo più. Fra un po' di tempo non ci sarà più questa spada di Davoche. Non si potrà più utilizzare. Esatto, non si potranno più utilizzare. Non si possa più, questo è vero, ma quelle che ci sono non è che le possiamo cancellare. Vanno sterilizzate. Il nostro impegno, così come l'anno scorso, è stato provare a mettere quel che si riesce a fare di tendenziale, degli effetti positivi già programmabili sulla riduzione delle clausole dell'IVA dell'anno successivo. Questo è quello che abbiamo fatto. Peraltro poi, nel prossimo anno, avremo altri effetti positivi, molto più alti di quelli di quest'anno, sulla riduzione dello spread. Quindi anche quelli sono denari che ci riduteranno in questo obiettivo. Senta un attimo, invece riguardo la mia domanda. Il fatto che l'IVA non aumenterà, l'avete detto e ridetto, però c'è una narrazione all'interno della maggioranza per cui qualcuno forse la voleva aumentare. Guardi, noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, c'è all'interno delle risoluzioni del DEF di quest'anno, si sterilizza nel caso di salvaguardia e non si aumenta l'IVA. Questo l'abbiamo sempre detto e questo continuiamo a fare. Poi io personalmente ho solo citato il fatto che in Parlamento, questa è una discussione che spesso si fa, soprattutto a ribasso, perché i parlamentari spesso durante la presentazione degli emendamenti presentano emendamenti per ridurre ad alcune categorie di beni l'IVA. E questo è frutto di un dibattito parlamentare, ma questo governo mai ha immaginato di aumentare l'IVA. Montanino, parlando di IVA, poi dopo arriveremo ai dati di oggi che avete pubblicato. Il fatto di tenerla così com'è, nel senso l'IVA, con tutte le sue strutture, perché ci sono anche delle aliquote un po' strane. Adesso l'esempio classico è quello dei meloni, io fra l'altro li apprezzo, li mangio volentieri, però sempre 4% è poco. È una cosa nel senso rimodularla, è una cosa che come Confindustria potreste sposare o non tocchiamo l'IVA? Allora, tutto dipende da quali sono le compatibilità dei conti pubblici. La scelta del governo, che leggiamo nella Nadef, che poi dovrà essere confermata dal disegno di legge bilancio e poi dall'iter parlamentare, è quello di non toccare le aliquote IVA e quindi trovare circa 23 miliardi di Euro da qualche altra parte. Questa è una scelta, è una scelta saggia, nel senso che un aumento dell'IVA di quelle dimensioni avrebbe avuto un effetto sui consumi molto pesante, l'avrebbe fondamentalmente portato in negativo, i consumi sono già molto bassi, come si ricordava. Quindi la scelta di sterilizzarle è una scelta giusta, la domanda però che ci dobbiamo fare è se ha senso, ma io non ho una risposta, non vi voglio dare una risposta, se ha senso sterilizzarle completamente e quindi sacrificare magari altri interventi, oppure si poteva fare qualche rimodulazione che magari portava un po' di gettito o al limite una rimodulazione a costo zero, perché effettivamente quello che vediamo quando guardiamo l'IVA è che è un'imposta regressiva, cioè i meno abbienti pagano relativamente di più dei più abbienti. Quindi si poteva e si potrebbe, questa è un po' la proposta che abbiamo messo sul tavolo, ma diciamo in uno spirito costruttivo e di discussione, non come una proposta, perché oggi noi non abbiamo presentato proposte, quello che noi oggi abbiamo voluto fare è far vedere un menu di interventi su cui ragionare. Uno di questi è dire se dobbiamo toccare l'IVA andiamo a guardare bene per bene quali sono le aliquote, andiamo a vedere chi consuma che cosa e cerchiamo di renderla un po' meno regressiva. Quindi l'esempio tipico sono i beni alimentari che vengono consumati prevalentemente dalle persone a basso reddito oppure quelli che sono i beni cosiddetti di consumo durevoli che vengono consumati prevalentemente dai più ricchi. E quindi eventualmente queste cose si possono in qualche modo rimodulare in alto e in basso. Questo è il ragionamento che abbiamo fatto. La scelta di sterilizzarle è una scelta giusta, ma va considerata il fatto che poi non ci sono risorse per fare altro. Bisogna anche dirsene le cose. È chiaro. Sara avevi una domanda per la Castelli. Voglio chiedere al Vice Ministro, proprio su quello che abbiamo appena ascoltato, ma adesso in sede poi di scrittura della manovra della legge di bilancio vera e propria, escludete completamente una rimodulazione. E giusto per essere chiare, rimodulazione si intende che c'è invarianza di gettito, quindi non si aumenterebbe l'IVA. Si andrebbe soltanto a lavorare o sulle aliquote, variando i beni, come ci diceva adesso il responsabile dell'ufficio studi di Confindustria, oppure le chiedo anche, viste le ipotesi che circolano, una rimodulazione favorendo, premiando chi paga con la carta di credito e penalizzando l'utilizzo del contante, sempre in quella chiave di lotta all'evasione, da cui tanto ci si aspetta anche e soprattutto per il prossimo anno come copertura e per le altre misure. Vice Ministro Allora, di sicuro, perché ne abbiamo parlato, e in questo anche Confindustria ha aperto il dibattito, e la ringrazio perché il Paese poi discute di temi dove le categorie sociali intervengono, sicuramente nella manovra ci sono quei sistemi di utilizzo di moneta elettronica che permettono una lotta all'evasione, perché, vede, qua il concetto è quello, la lotta all'evasione serve per mille motivi, tra i quali recuperare risorse che oggi sono sommerse, ma anche e soprattutto fare un patto con gli italiani per riuscire a fare insieme quella riduzione delle tasse che tutti promettono e pochi riescono a fare, quindi quello che è l'impegno che abbiamo messo nella Nadef, troveremo sulla manovra finanziaria, sono i 2 miliardi e mezzo per il prossimo anno e poi in un regime a 5 miliardi, ma che comunque andranno integrati con i soldi della lotta all'evasione, che riguardano molti ambiti e le assicuro che c'è l'ambito dei pagamenti elettronici, dove molto, molto si può fare, io ricordo che entrerà in vigore la lotteria degli scontrini, entrerà in vigore lo scontrino elettronico per tutti gli esercenti e molte altre misure che vi presenteremo a breve, una lotta serrata sulle frodi dei carburanti, ma anche sulle compensazioni che vanno mantenute. Adesso ci arriviamo. Non ci devono essere frodi sulle compensazioni, quindi sono molti i denari. La verità è che poi si vedono l'anno dopo i reali effetti, quindi sono numeri che entrano piano piano. Grazie. Allora, avete sentito dalla viva voce del principale estensore montanino questa Italia in bilico e quindi qualche dubbio sulla nostra crescita. Il nostro Simone Spina è andato lì alla sede di Confindustria, vediamo il pezzo e poi ne parliamo insieme. L'allarme degli industriali sul rischio recessione è solo uno degli scenari possibili, ma nasconde una realtà. La crescita economica resta lumicino e se ci saranno nuovi shock si potrebbe scivolare sotto lo zero. Le previsioni del centro studio di Confindustria parlano di un prodotto interno lordo fermo quest'anno e in risalita dello 0,4% nel prossimo. Meno quindi di quanto si aspetta il governo e con in più un'osservazione. Se nel 2020 aumentasse l'IVA i consumi si comprimeranno e il PIL risulterebbe stagnante. Un'eventualità quella di un rialzo dell'imposta che pesa su beni e servizi che però l'esecutivo, per bocca del ministro dell'economia Roberto Gualtieri, esclude. Le stime sulla crescita del rapporto sono stime pre-Nadef che dicevano se non si disattiva l'IVA e se aumenta l'IVA di 23 miliardi la crescita sarà zero. Infatti noi la disattiviamo e quindi pensiamo che si rilancerà la crescita. L'economia, spiega l'istituto di statistica, prosegue in una fase di debolezza mentre l'associazione degli industriali mostra pessimismo per quanto riguarda il deficit per l'anno prossimo tenuto conto dell'ampio ricorso alla spesa per la prossima manovra è stimato al 2,8% più di quanto programmato dal governo. Gualtieri è fiducioso del via libera di Bruxelles alla legge di bilancio e parla di forti convergenze con Confindustria a proposito di alcuni punti per stimolare l'economia. Lo sblocco degli investimenti pubblici è il taglio delle tasse sul lavoro innanzitutto. Su quest'ultimo punto le imprese propongono diverse strade fra le quali l'estensione del bonus di 80 euro a chi ha redditi molto bassi e ora non lo prende oppure una rimodulazione del livello delle imposte in modo da far pagare meno a chi ha redditi medi. Per la prima misura servirebbero un paio di miliardi l'anno un po' meno quindi di quanto vuole stanziare il governo per il taglio alcuneo fiscale. Più alta, quasi 8 miliardi, la somma necessaria per abbassare le tasse a più di 23 milioni di contribuenti riducendo gli scaglioni IRPEF. Simone Spina, SkyTG24 Montanino, rischio recessione, perché? Nel senso non è sempre eccessivo? No, perché l'ha scritto, ma perché? Diciamo, noi ci auguriamo che sia eccessivo e ovviamente ci auguriamo, come ho detto stamattina di vedere un 1 davanti alla crescita, davanti alla virgola diciamo 1 virgola qualcosa e non 0 virgola qualcosa però dobbiamo tener conto di quello che si osserva si osserva un contesto internazionale che è totalmente incerto voglio dire, è di oggi la notizia che forse ci sarà un'ulteriore guerra al nord della Siria e quindi sono fattori imprevedibili ma che destabilizzano i mercati la guerra dei dazi, la guerra commerciale non vediamo, come dire, un miglioramento al limite vediamo un non peggioramento anche perché entriamo in una fase elettorale negli Stati Uniti e difficilmente l'amministrazione Trump vorrà penalizzare il consumatore americano quindi, come dire, però non è detto che le cose migliorino la Germania rallenta più del previsto e come vediamo i dati sulla produzione industriale tedesca sta scivolando verso una sorta di recessione quindi, come dire, il contesto internazionale non ci sta aiutando all'interno c'è un problema forte di fiducia del sistema manifatturiero gli indicatori di fiducia sono in calo da circa un anno e mezzo sono ai livelli più bassi da 4 anni a questa parte quindi noi diciamo che questa recessione o comune una stagnazione si può evitare assolutamente sì se ovviamente non peggiorano le cose nel contesto internazionale e se si ricrea fiducia in Italia la fiducia si può ricreare la nascita di un governo che ha, come dire, un'intonazione meno conflittuale con l'Europa ha già portato a una riduzione forte dei rendimenti dei nostri tassi di interesse questo è un fatto positivo dobbiamo continuare su questa strada se si riesce a creare la fiducia alle imprese queste inizieranno a investire i consumatori consumeranno di più e le cose potranno assolutamente migliorare quindi non vogliamo essere pessimisti ma abbiamo voluto rappresentare questi danni in bilico Allora, Vice Ministro Castelli si trattava solo di un titolo poi come Montanino ci ha spiegato in verità nel senso può capitare nel senso che siamo in una situazione in cui per shock probabilmente quasi tutti esogeni rischiamo comunque di andarci in recessione però le chiedo non corriamo il rischio di essere di stare camminando su un filo senza la rete sotto nel senso che ci stiamo fidando dei dati che ci sono adesso ma abbiamo visto più volte che poi dopo i mercati esterni possono farci brutti scherzi Guardi, io credo che per aumentare la fiducia ci voglia un buon governo ma anche un po' meno pessimismo io le posso raccontare l'esperienza di un anno e mezzo di governo dove tutti criticavano abbondantemente moltissimi criticavano le nostre misure se le parlo di investimenti le dico che il 98% dei soldi su la spesa di investimento che abbiamo dato ai comuni con la famosa norma Spagna è stata impegnata, impiegata e ha prodotto opere quindi investimenti messi a terra si dice in gergo questo significa che forse guardare le cose in modo diverso e provare ad attivarle in modo diverso produce delle cose le posso parlare della crescita che al consumo è differente quando si usa un pagamento tracciato tipo il reddito di cittadinanza dato sulla carta piuttosto che gli 80 euro che non passano da un circuito che sicuramente li mette sul mercato Nella nota di aggiornamento del DEF parlate di uno 0,6% per l'anno successivo loro, nel senso Confindustria a malapena arriva allo 0,4% è vero che sono sembra pochissimo ma il 50% in meno? Guardi, io quello che ho imparato molto umilmente è che i dati si guardano a consuntivo e che gonfiare i dati in preventivo non fa bene a nessuno io quello che mi auguro è che il panorama internazionale possa non peggiorare ulteriormente e sappiamo che gli effetti purtroppo se dovesse essere sono pesanti anche per l'Italia questo è innegabile chi segue i temi economici come voi lo sa benissimo quello che possiamo fare e continueremo a fare perché alcune cose nel metodo le stiamo portando avanti sono quelle di intervenire laddove ci sono stati dei blocchi allora noi ci siamo trovati con un paese quando abbiamo cominciato un anno e mezzo fa che aveva bloccati quote pazzesche di investimenti ne abbiamo sbloccati 50 miliardi al Cipe solo qualche mese fa e continuiamo su questo percorso cioè la crescita si fa nell'ambito dei consumi attraverso la sicurezza che i soldi si possano spendere quindi utilizzare per beni di consumo magari facendo una riforma del cuneo fiscale basata sul ceto medio che sicuramente ha necessità di aumentare la sua possibilità diciamo così di spesa e di fare la propria vita cosa che gli hanno tolto dieci anni di politica che non si è occupata di loro e dall'altra parte il tema degli investimenti che è un tema che insomma sta all'ordine del giorno da un anno e mezzo cerchiamo anche tenere i giri del motore abbastanza alti poi dobbiamo comunque sperare che non succeda il patatrack Sara trovi che ci sia una sottovalutazione del rischio o è del tutto normale nel senso in un mare in tempesta come quello attuale per quanto riguarda i mercati mondiali possiamo solo navigare a vista? Mi sembra che i rischi non li stia in realtà sottovalutando nessuno perché a partire da quelle protagoniste straordinarie che sono diventate ormai della scena globale cioè le banche centrali nessuno sta sottovalutando il mare in tempesta allora no ci inondano di esatto per fortuna ci sono i banchieri centrali e le banchiere centrali diciamolo perché alle figure femminili che ricoprono a breve Christine Lagarde prenderà il posto di Matteo Draghi esatto questo ruolo si aggiunge anche Christine Lagarde che non è però la prima banchiera centrale al femminile comunque a parte le questioni di genere ricordiamo che stanno inondando di liquidità proprio per cercare di tamponare il rallentamento che è dato come il peggiore degli ultimi otto anni attenzione abbiamo visto anche le previsioni di Fitch la settimana scorsa si teme davvero una tempesta dettata soprattutto dalle guerre commerciali allora l'Italia sta sottovalutando l'Italia non è che può fare molto in questo caso se non cercare ed è quello che è sempre l'auspicio che chiediamo sempre anche in questa trasmissione di usare quel poco che c'è bene per far ripartire la crescita perché l'unico modo in cui noi restiamo sostenibili è se finalmente il nostro tasso di crescita sarà superiore alla crescita dell'interesse sul debito che sta scendendo e scenderà ancora come auspicava il vice ministro Castelli ma non abbastanza ancora e ce lo ricordano anche le tabelle presentate anche oggi da Confindustria mentre negli altri paesi c'è più crescita di quanto non cresca l'interesse sul debito da noi no ed è quello che ci rende particolarmente vulnerabili Montanino parliamo un attimo di coperture mi è sembrato di capire che non vi convincano del tutto parlo in modo particolare del fatto che nella nota di aggiornamento c'è scritto che 7 miliardi arriverebbero dalla lotta all'evasione sono tanti 7 miliardi l'anno passato non abbiamo superato i tre anzi ben sotto prima volevo fare un accenno al tema dei tassi di crescita e delle stime guardi le stime del governo e le stime di Confindustria non sono distanti 0406 in questo mondo di previsioni sostanzialmente sono lo stesso numero noi indichiamo delle tendenze in più il governo giustamente fa una previsione che incorpora particolarmente pacificatore oggi con noi no no perché io cerco di essere fattuale diciamo no nel senso che lo 06 del governo incorpora giustamente come hanno fatto tutti i governi sempre gli effetti delle misure e noi questi non li incorporiamo perché lo faremo dopo che ci sarà è chiaro ma adesso mi faccio un po' cattivo e mi dica perché questi 7 miliardi di coperture dalla lotta l'evasione la convincono poco allora guari noi io stamattina l'ho anche detto sul rapporto deficit pil programmatico al 2,2 abbiamo qualche dubbio abbiamo il dubbio per una serie di fattori uno perché le ipotesi sulla crescita nominale non quella reale cioè quella che incorpora l'inflazione del governo secondo noi sono troppo ottimistiche cioè vedono una crescita dell'inflazione più forte di quella che vediamo noi questo tira su il pil e riduce il rapporto deficit pil questo è il primo fattore il secondo fattore è che quell'obiettivo al 2,2 incorpora tutte le possibili flessibilità che può concedere l'Europa e questa è tutta da vedere nel senso che il dialogo con l'Europa inizierà dopo che c'è il disegno di legge di bilancio quindi noi non sappiamo se tutta la flessibilità teoricamente possibile verrà concessa ma il piano del governo prevede questo e poi c'è il tema delle coperture qui ci sono due elementi lotta all'evasione e spende in review questi sono come dire due modi io ormai li chiamo quasi di tecnica legislativa li mettono tutti o di tecnica politica in cui come dire poiché non riesco ancora a definire che cosa posso fare le chiamo lotta all'evasione e spende in review però attenzione perché non hanno messo 14 miliardi di privatizzazioni questa volta esattamente su entrambe le cose spende in review e lotta all'evasione dobbiamo vedere cosa dirà la legge di bilancio anche perché come dire la viceministro Castelli lo sa molto bene prima che gli uffici tecnici diciamo della ragioneria generale allo Stato bollinino come dire delle misure devono vedere che ci sono degli interventi normativi concreti quindi dobbiamo vedere nella legge di bilancio perché non è la Nadef quello che lo fa ma è il disegno di legge di bilancio quali saranno queste misure concrete dico soltanto un'ultima cosa perché prima si è citato il tema degli incentivi assolutamente gli incentivi della moneta elettronica che ci dava il viceministro noi riteniamo che questa sia una strada da perseguire che potrebbe portare qualche risultato non è la soluzione al tema dell'evasione ma comunque è una buona strada ma non si parla più di tastare i contanti giusto? lo dice a me o lo dice alla viceministra? lo sto dicendo a lei perché la proposta più o meno arrivava da quelle parti se non si parlava di tassare i contanti ma si parlava di un prelievo sui maxi prelievi che serviva come copertura degli incentivi perché se io do un incentivo devo trovare soldi da qualche parte questo lo saprà il governo perfetto allora viceministro prego no questa volta sono d'accordo che in altre epoche all'interno della Nadef si scriveva genericamente lotta all'evasione e spending così testa o croce la verità è che in quest'anno abbiamo lavorato perché si possano vedere già nella manovra e in quello che evidentemente sarà un decreto fiscale quelle norme che entrano nel merito e che gettano come si diceva poc'anzi ciò che riesce a bollinare la ragioneria quindi so che può sembrare questo dibattito in questi giorni è al centro può sembrare troppo la verità è che le misure sono molte ci abbiamo concentrato molti mesi di lavoro e dentro ci sono temi molto corposi prima citavo le frodi sulle compensazioni dell'Inps mi lasci ricordare che se lei prende le ultime due gli ultimi due casi di criminalità organizzata che hanno visto arresti dentro ci sono le frodi sulle compensazioni stiamo parlando di temi che abbiamo potuto osservare da vicino in questi ultimi mesi cercando di intervenire in maniera che non si ripetano quindi compensazioni sempre nessuno le vuole ridurre anzi benvengano ma con un controllo che permetta di non avere delle frodi questo stiamo in questi giorni quantificando il rientro e sono soldi che sicuramente sono più alti di quelli che si aspetta il dottore perché devo dire che l'assemblaggio di alcune misure come questa come quella dei carburanti abbiamo fatto alcune norme sull'evasione dell'IVA su energie elettriche e gas abbiamo potuto dedicarci del tempo e adesso le vedrete in maniera insomma una dopo l'altra sulla manovra sarà un piacere una delle proposte Sara di Confindustria riguarda anche diciamo uno spostamento di questi benedetti 80 euro che adesso tutti li cercano da un'altra parte c'è una bella ipotesi invece per gli 80 euro invece di farne diventare quasi un assegno unico per le famiglie è una proposta molto interessante anche perché noi soffriamo come paese e questo mi piace sottolinearlo perché è un'eredità dei governi passati ma dobbiamo andare indietro anche di alcuni decenni di una cronica assenza di politiche vere a sostegno della famiglia della natalità noi ci lamentiamo che abbiamo un crollo deomografico e che tra l'altro dato ben più allarmante che rende ancora più complicato il lavoro del governo attuale e che oggi si vede che in alcuni da uno studio pubblicato di recente sulle province italiane anche laddove ci sono condizioni economiche migliori rispetto a zone disagiate laddove non c'è carenza di posti di asili nido c'è tutte le misure di cui parliamo sempre per favorire e sostenere la natalità in realtà non si stanno facendo più figli perché continua la caduta delle nascite perché in realtà mancano sono diminuite il numero delle donne in età fertile e questo perché stiamo soffrendo il primo grande crollo demografico che si verificò fra il 75 e il 95 le donne nate in quel lasso di tempo sono quelle che possono fare figli ovviamente adesso io non voglio ridurre tutto banalmente la statistica e i numeri però di questo che parliamo l'assenza di politiche che poi non sono state introdotte nemmeno dopo quei decenni ci ha portato oggi forse ad avere un problema ancora più grave e ancora più difficile da risolvere servono incentivi per la famiglia forse un'idea arriva con la rimodulazione del bonus di 80 euro Giorgio Rizzo e allora però come diceva Sara diamo il quadro del contesto e dei numeri perché due numeri ci fanno capire di cosa stiamo parlando noi nel 2018 abbiamo avuto in Italia 439 mila nuovi nati però è il minimo storico dall'unità d'Italia basterebbe questo per farci capire la situazione dati ancora più recenti siamo ai primi tre mesi del 2019 sono i numeri delle federazioni nazionali dell'ordine delle professioni di ostetrica 6.800 nati in meno rispetto allo stesso periodo del 2018 questo è il quadro allora l'obiettivo del governo è sostenere la natalità sostenere la famiglia come lo annunciavi tu con un'ipotesi che è il cosiddetto bonus unico che non ci sono ancora i dettagli noi stiamo ipotizzando partendo da quanto è stato annunciato anche dalla ministra della pari opportunità della famiglia Bonetti però c'era una proposta già del partito democratico che grossomodo faceva questi numeri 240 euro al mese per i figli fino a 18 anni poi andando a scendere 80 euro al mese dai 18 ai 26 anni il problema è come prendere e trovare le risorse allora qui ci aiutano i numeri e l'analisi del forum delle associazioni familiari perché l'ipotesi sarebbe questa andando a riassorbire tutte le agevolazioni esistenti tuttora sulla famiglia si recupererebbero 30 miliardi come 12 miliardi andando a riassorbire quindi prendendoli dalle detrazioni dei carichi familiari che tutte confluirebbero in un unico appunto bonus per i figli 1,5 miliardi da tanti altri bonus un po' diciamo parcellizzati sempre a favore dei figli bonus mamme e bonus bebè 6,5 miliardi dal riassorbimento degli assegni familiari e poi 10 miliardi dal riassorbimento del bonus degli 80 euro però a questo punto dobbiamo fare i conti con questa possibilità e cioè se il criterio dei figli è l'unico criterio che viene ad essere preso circa un terzo più di un terzo degli attuali percettori del bonus di 80 euro che sono lavoratori dipendenti che non hanno figli lo andrebbero a prendere i singoli quelli che hanno i figli grandi esatto viceversa però ci sarebbero anche chi avrebbe dei vantaggi facciamo solo due esempi le partite IVA non hanno gli assegni familiari oppure i cosiddetti incapienti quelli che hanno redditi sotto circa gli 8 mila euro l'anno quindi troppo bassi non pagano le tasse però non potrebbero neanche portare nulla in detrazione quindi sono circa 5 milioni e 600 5,6 milioni di famiglie che verrebbero avvantaggiate grazie Giorgio allora vice ministro premesso che Giorgio ha ottime fonti ma non possiamo pretendere che ci dica lui la verità la veniamo a chiedere a lei e io so che ci state lavorando le volevo chiedere quanto ci siamo andati vicini fra l'altro questo è un dossier che lei aveva in mano anche nella scorsa di legislatura se non sbaglio sì perché guardi questo tema passa anche dal tema della spending review che non significa tagliare significa riordinare in qualche modo ed è vero che c'è un mare magnum di misure che delle volte il cittadino non riesce neanche a utilizzare perché è talmente complicato capire se hai diritto oppure no a un bonus un'agevolazione una detrazione che delle volte si perdono questo lavoro infatti era cominciato proprio per questo per aiutare una semplificazione fiscale bisogna tenere però ben fermi alcuni concetti il primo una politica per la famiglia che funziona non deve pensare solo alle fasce più deboli deve pensare anche al ceto medio perché altrimenti non funziona se no diventa una misura di agevolazione sui redditi bassi e non una politica per la famiglia questo è molto importante perché in Italia purtroppo tante volte non si è visto questo atteggiamento il secondo principio che bisogna tenere davanti e voi avete sottolineato bene è quello che oggi quello che il mondo delle detrazioni riguarda soprattutto persone che hanno un lavoro che sono lavoratori dipendenti e si lasciano fuori tutti i liberi professionisti che in qualche modo vorrebbero vedere una politica della famiglia applicata anche su di loro si cambia veramente il paese in questo noi se vi ricordate tante volte abbiamo parlato del coefficiente familiare dentro la riforma fiscale che è un tema attuale che piace anche al mondo del foro delle famiglie quindi in qualche modo misura con un coefficiente quello che è insomma i termini di tassazione e di fiscalità certo è che bisogna semplificare e ottimizzare le risorse perché oggi si perdono nei rivoli e quando si perdono nei rivoli non va mai bene perché si finanziano con debito pubblico ma poi non sia un effetto reale con questi due principi uno fa un buon lavoro che è quello che ci stiamo proprio in quanto a fare Montanino abbiamo diciamo le politiche per la famiglia abbiamo il Green New Deal di cui non parleremo oggi non penso faremo in tempo abbiamo il taglio del cuneo fiscale tante cose giuste assolutamente da fare ma i soldi sono pochi vale la pena giocare su tutti i tavoli o bisognerebbe invece scommettere le poche fisce solo su un tavolo solo e poi dopo man mano sistemare il resto secondo me quello che varrebbe la pena è delineare un piano triennale visto che l'orizzonte e la legislatura sono tre anni e il governo immagino che abbia intenzione di durare per tutto il periodo esplicitare da subito qual è il piano triennale quindi che cosa si fa il primo anno che cosa si fa il secondo anno che cosa si fa il terzo anno questo non significa giocarsi tutte le fisce subito significa però esplicitare che cosa si vuole fare quindi avere un piano in medio termine io penso che se i mercati le imprese italiane i consumatori vedessero un piano credibile questo darebbe quell'iniezione di fiducia di cui parlavo prima Sara io volevo chiedere una cosa al volo ancora in chiusura al ministro Castelli se ce n'è la possibilità visto che l'ambiente è un tema che sta a cuore moltissimo a tutti noi anche Sky come azienda con la campagna per la salvaguarda degli oceani ci tiene moltissimo lo ricordava adesso Andrea ci sono poche risorse ci dice quale sarà secondo lei questo è un tema cavallo di battaglia dei 5 stelle poi soprattutto caro anche al PD ma è caro quale sarà secondo lei la misura principale iniziare ovviamente iniziale di questo primo intervento a favore proprio dell'ambiente guardi la riconversione la riconversione programmata su più anni dei sussidi ambientali dannosi accoppiata a un piano di investimenti anche questo pluriennale i sussidi ambientali dannosi sono spese fiscali che danneggiano l'ambiente riuscirete a colpire per esempio il gasolio io so che i camionisti non amano molto quando gli si dice che gli vengono tolto gli incentivi e hanno ragione va programmata questa cosa e vanno dati a loro incentivi per poter iniziare a convertire questo va a buon fine solo se si programma su più anni e questo è quello che stiamo facendo il nostro tempo è finito purtroppo però insomma ritorneremo ad invitarla come sempre grazie al viceministro Castelli grazie alla capo economista di Confindustria Andrea Montanino grazie alla nostra Sara Varetto noi ci vediamo domani a Scatig24 Economia alle 18 ecco qui grazie a tutti grazie a tutti a Scatig24 Economia a Scatig24 Economia a Scatig24 Economia Grazie a tutti